Goffredo di Buglione, il condottiero crociato. Goffredo di Buglione 1060 circa 1100 è stato uno dei protagonisti della prima crociata, che nel 1099 riconquistò Gerusalemme ai musulmani. Discendente di Carlo Magno, Goffredo era un potente signore feudale della bassa Lorena, in Francia. Era un uomo di grande valore militare e di profonda fede cristiana. Nel 1096, Goffredo si unì alla prima crociata, un'impresa militare e religiosa che aveva lo scopo di riconquistare la terra santa ai musulmani. La crociata fu un successo e Goffredo fu uno dei principali comandanti dell'esercito crociato. Dopo aver conquistato Gerusalemme, Goffredo si rifiutò di essere incoronatore della città. Preferì invece assumere il titolo di Defensor Civitatis, difensore della città. Questo gesto fu interpretato come un segno di umiltà e di devozione alla causa cristiana. Goffredo governò Gerusalemme per un anno, fino alla sua morte nel 1100. Durante il suo breve regno, si adoperò per stabilire un governo stabile e giusto nella città. Introdusse inoltre una serie di leggi e istituzioni che avrebbero contribuito a plasmare la società dei regni crociati, Goffredo di Buglione è una figura leggendaria nella storia della cristianità. È stato un condottiero abile e valoroso, un leader carismatico e un uomo di profonda fede. Il suo contributo alla prima crociata fu determinante e il suo ricordo è ancora vivo oggi. La giovinezza Goffredo nacque intorno al 1060, figlio del conte Eustachio II di Boulogne e Dida di Lorena. Era un membro della casata dei duchi di Lorena, una delle più importanti famiglie nobiliari dell'impero germanico. Goffredo trascorse la sua giovinezza in Francia, dove ricevette un'educazione completa. Era un uomo di grande intelligenza e cultura, oltre che un abile cavaliere. La partecipazione alla prima crociata Nel 1096, Goffredo si unì alla prima crociata, un'impresa militare e religiosa che aveva lo scopo di riconquistare la Terra Santa ai musulmani. La crociata era stata proclamata dal Papa Urbano II nel 1095, in risposta alle richieste di aiuto dei cristiani dell'impero bizantino, che erano stati oppressi dai musulmani. Goffredo era uno dei comandanti più importanti dell'esercito crociato. Era un uomo di grande esperienza militare e di profonda fede cristiana. L'esercito crociato partì dall'Europa nel 1096. Dopo aver attraversato l'Europa e l'Asia minore, giunse in Terra Santa nel 1097. I crociati conquistarono Antiochia nel 1098 e Gerusalemme nel 1099. Goffredo fu uno dei principali protagonisti di queste conquiste. Il governo di Gerusalemme, dopo la conquista di Gerusalemme, Goffredo fu uno dei principali candidati alla corona della città. Tuttavia, rifiutò di essere incoronato re. Preferì invece assumere il titolo di defensor civitatis difensore della città. Questo gesto fu interpretato come un segno di umiltà e di devozione alla causa cristiana Goffredo governò Gerusalemme per un anno, fino alla sua morte nel 1100. Durante il suo breve regno, si adoperò per stabilire un governo stabile e giusto nella città. Introdusse inoltre una serie di leggi e istituzioni che avrebbero contribuito a plasmare la società dei regni crociati, l'eredità. Goffredo di Buglione è una figura leggendaria nella storia della cristianità. È stato un condottiero abile e valoroso, un leader carismatico e un uomo di profonda fede. Il suo contributo alla prima crociata fu determinante e il suo ricordo è ancora vivo oggi. Goffredo è considerato un eroe nazionale in Francia e in Germania. In Italia, è ricordato soprattutto per la sua vittoria a Gerusalemme, che pose fine al dominio islamico sulla città santa. Goffredo di Buglione è una figura complessa e affascinante. È stato un uomo di grandi ambizioni e di profondi ideali. La sua storia è una testimonianza della potenza della fede e del coraggio degli uomini che hanno combattuto per difenderla.